Stanno cominciando ad arrivare anche gli altri esponenti del PDL e quindi tra qualche minuto effettivamente comincerà questo vertice qui a Parso Grazioli. Mi preme sottolineare alcune frasi che vengono fuori da questo video messaggio che Berlusconi ha preparato mentre noi eravamo qui insieme appunto a Roberto Gasparotto. Lui dice sostanzialmente prenda esempio da Bertini e quindi onorevole ci può dire qualcosa? Buonasera a tutti. Grazie. Abbiamo visto uscire il senatore Gaspari, il presidente del gruppo che era decisamente più cupo e meno divertito di quando l'abbiamo visto arrivare. Questo per il momento è tutto perché la riunione continua a tenersi rigorosamente a porte chiuse mentre noi siamo qui sotto il cielo come vedi.